che dormita ci voleva dopo quella roccambolesca fuga fortunatamente sono qui a riparo dovrò ringraziarla più tardi vediamo se qui dentro c'è qualcosa che potrà essermi utile per la mia avventura prendiamo un po di oro qui che c'è oh idromile è il mio preferito beviamone un po una bottiglia sono veramente affamato mangiamoci anche qualcosa una carota un po di formaggio salve così hai visto un drago e dimmi com'è grande quanto una casa non mi va tanto di parlarne è solo che sai non capita tutti i giorni di incontrare qualcuno che ha visto un drago e lo so immagino vediamo cos'altro c'è qui dentro po di oro non voglio approfittare troppo della loro ospitalità direi di uscire andare a esplorare un po il villaggio buona fortuna a te oh amo svegliarmi a quest'ora è ancora presto dormono ancora tutti però posso andare in giro ciao bel cagnolino andiamo a vedere qua attorno se c'è qualcosa di interessante mi hanno detto che c'è una torre qua vicino con dei banditi sarà meglio ricambiare l'ospitalità di questa gente andiamo a vedere un po se posso fare qualcosa cavolo se fredda l'acqua andiamo ok dovrebbe essere da queste parti se non ricordo male è un bel villaggio qui ci sono c'è una strada forse di qua ci sono delle orne proviamo a salire vediamo un animale ehi mi dispiace ho dovuto farlo vediamo che cos'hai pelliccia di lupo questa mi terrà al caldo nelle giornate più fredde credo di essere sulla strada giusta corriamo un po uh ecco la torre avevo ragione andiamo a vedere se andiamo a vedere se quei banditi vogliono parlare se riesco a farli andare via le vedo eccoli là devo cercare di non essere ostile salve vengo in pace vorrei parlare dovevi venire qui no ma mi attacchi aia non dovevi farlo mi serve il tuo oro e anche tu farai la stessa fine della tua amica morirai addio non volevo arrivare a tanto mi dispiace questo lingotto lo venderò ci farò un po' d'oro vediamo cosa c'è un po' di moneta ma dove sei uscito tu un guerriero aia mi dispiace non volevo arrivare a tanto mi avete costretto avete fatto del male a quella povera gente oh un baule un po' d'oro mi sarà utilissimo oh valeva la pena venire fino a qui che bellezza le famose aurore di skyrim bene direi che è ora di tornare indietro al villaggio vedo già i primi fuochi però